Ciao a tutti da Cristian T.G., salutatore del blog, grandissimo Marco Giallini, grandissimo attore che conoscete tutti quanti. Conoscete tutti quanti, adesso arriva. Un saluto a Cristian e un saluto a tutti, che Dio vi benedica. Faccio tantissimi complimenti Marco perché sei uno dei più bravi attori del momento ed è un grandissimo piacere. Un attore da sette. Un grande attore da sette e non solo. Sette e mezzo vogliamo. E anche una grandissima persona. Nel girato, grandissima persona. Dentro e fuori. Una 88, più dentro che fuori. Ok, una sorpresa, una parola a tutti i tuoi fans che ti seguono. Sì, una parola. Ma non mi viene niente. Arrivederci a tutti, grazie di seguirmi, seguitemi. Grazie, grazie a Paolo Genovese. Ciao, ciao. Grazie. Grazie a te.